Buonasera a tutti ragazzi, stasera volevo parlare del caos in casa Juve, sono tifoso del Napoli però volevo esprimere un mio pensiero, che può essere condivisibile oppure no, ognuno poi la pensa a modo suo. Tutti stanno attaccando ultimamente, nelle ultime giornate, Massimiliano Allegri, certo il gioco che lui propone non è il massimo della vita, nelle ultime otto gare, la Juventus ha totalizzato solo 7 punti, crisi per i bianconeri e quindi molte colpe addossate a Massimiliano Allegri, che ripeto, non fa certo un gioco esaltante, però per buona parte della stagione, soprattutto nella prima parte, la Juventus addirittura è attaccata all'Inter, è stata attaccata all'Inter per molti mesi, per poi crollare, proprio nelle ultime 9-10 gare. Che cosa è successo? Io non ve lo so dire, anche perché c'è stato un momento della stagione, ho seguito molte partite della Juve, che non solo riusciva a prevenire la vittoria, ma aveva iniziato a far vedere anche delle trame di gioco interessanti, arrivo a giocare anche abbastanza bene, incominciavo anche a vincere qualche partita con più di un gol di scarto, quindi all'improvviso poi si è spenta la luce e adesso nelle ultime 8 partite, come vi dicevo, solo 7 punti. Io vi dico la verità, per tutti quelli che attaccano Allegri, e voglio dire anche in maniera piuttosto giustificata, ma io esprimo sempre la mia opinione, anche quando commento il Napoli e le altre squadre, dico che l'allenatore ha sempre delle colpe relative. Per me la Juventus è un'ottima squadra, ma pecca secondo me in una zona del campo nevralgico che è il centrocampo. A me Rabiot non mi fa impazzire come calciatore, tra l'altro anche infortunato, perché è un giocatore tecnicamente valido ma molto lento, difficilmente riesce a cambiare passo e quindi creare superiorità numerica al centrocampo. C'è Vlaovic che è la punta di riferimento che va molto a corrente alternata, alterna buonissime prestazioni con altre molto insufficienti. L'ultima partita contro il Napoli a Napoli si diverò di tutto e se un tuo calciatore a due metri dalla porta spara sul portiere o manda la palla in tribuna, l'allenatore poi c'entra relativamente. Ripeto, con tutti i limiti di Massimiliano Allegri, però secondo me anche se si cambia l'allenatore, la forza della squadra quella rimane e quella è, pur perché in precedenza, negli anni in cui Allegri non ha allenato la Juve, prima Pirlo, poi Sarri, però la squadra non è che giocasse chissà che, eppure con l'avvento di Sarri si sperava in un cambio di prestazioni, soprattutto a livello di gioco, che invece Sarri non riuscì a dare perché la qualità dei calciatori poi quella è. Quindi più che ricercare la colpa in Allegri, secondo me bisognerà trovare delle alternative di calciatori, soprattutto a centrocampo, di una qualità superiore a quelle che ci sono adesso. Con tutto il bene che vogliano Catelli non mi sembra un giocatore top e purtroppo, come vi dico sempre, come chi mi segue nei miei video, dico il centrocampo è il fulcro di tutto, perché quello che lega i reparti è quello che fa la differenza, quello che offre copertura alla difesa, che propone gioco verso l'attacco. Un centrocampo deve essere assortito bene, ci vuole il regista che fa girare la palla, c'è bisogno di un buon interdittore, c'è bisogno della mezzalla che sappia fare le due fasi, che quindi sappia sia dare una mano alla difesa che poi aggiungersi agli attaccanti, magari facendo 7-8 gol a campionato, deve essere costruito un centrocampo che sia capace di fare le due fasi. E io secondo me uno dei punti deboli della Juve è proprio il centrocampo. Quindi se una squadra non ha giocatori di livello in quella zona del campo farà sempre fatica. Anche il Napoli se vedete quest'anno, chissà non è quello dell'anno scorso, Zerischi non ha mai giocato o quasi mai, quindi è nudo meno il punto di forza che lo botta Zerischi e anche se hanno dato l'anno scorso con le prestazioni l'anno scorso, il Napoli sta facendo fatica e questo è il mio pensiero. E poi, oddio, le responsabilità sono sempre da suddividere per tutti, quindi quando poi si attacca una sola persona io non sono mai d'accordo, perché il calcio è composto dai calciatori, dall'allenatore, dal presidente, dalla dirigenza, quindi quando si va bene, non si fa male, Merdi e De Merri vanno equamente divisi. Ora c'è questa caccia all'allenatore, ci sono dimostrazioni anche quest'anno, il Napoli ne ha cambiato i tre, ma il trend dell'annata è stato quello, anzi se non addirittura peggiore, con Garcia perlomeno finché è stato in panchina il Napoli era quattro, dopo di che con Mazzardi e Calzona, il Napoli veleggia nel centro classifica, la Salernitana, che l'annata è andata a Storta, ha cambiato 3-4 allenatori, ma la Salernitana è giù lì, ultima in classifica, perché la squadra è stata costruita male, quindi l'allenatore si può dare un plus su qualche cosa in più, ma non può far cambiare l'inerzia completa di una stagione. Nelle 38 partite, come vi dico sempre, più o meno il valore della squadra quello è, e qualsiasi allenatore vada ad allenare quella squadra, punto più punto meno è quella. Adesso dicono tutto il Bologna, il Bologna, Tiago Motta, si sta facendo giocare il Bologna in maniera egregia, molto bene, però hanno anche indovinato delle individualità che se le togli dal Bologna, vedrete che farà fatica anche con Tiago Motta, gli rifiuti a Zizze, Andoia, ci sono dei giocatori che, ragazzi, sono già nel mirino di squadre più importanti, per cui poi quando vai andrà a togliere quegli elementi, vedrete che anche con Tiago Motta poi il Bologna farà più fatica, perché c'è la qualità del singolo che poi nel finale, nelle partite così equilibrate fanno la differenza, sono sempre singoli che nel lungo termine portano punti. Se purtroppo non ci sono campioni in grado di cambiare le partite, non c'è l'attaccante che ti fa quei 20-25 gol a stagione, una squadra che ambisce a vincere il titolo, se non c'hai un attaccante che ti fa più di 20 gol a stagione, difficilmente arriverai a vincere il campionato. E Vlaovic quest'anno purtroppo ha dei buoni periodi, ma ha altri periodi in cui la portano alla vita, mentre quest'anno per esempio l'Inter c'è l'autorio Martinez che sta a 26 gol, tutti i diritti che effettua vanno in rete, quindi una stagione del genere è molto più facile arrivare a dei traguardi prestigiosi. Quindi colpa sicuramente è allegri, ma io sinceramente è sempre una piccola percentuale, il resto sono sempre calce d'uso, ok? Buona sera, due agliù.